La definizione di salute non è soltanto assenza di malattie, ma è di essere fisico, mentale e sociale. La soluzione sta allora nelle tre S, stile di vita, salute e sport per tutti. E' questo il tema del convegno nazionale dell'Unione Italiana, sport per tutti. Ci troviamo ad Orvieto, qui è iniziata oggi una tre giorni dedicata allo sport, alla prevenzione e alla diffusione dei corretti stili di vita. La garanzia dell'inter-settorialità, cioè il piano nazionale introduceva un principio fondamentale, diceva che il sistema sanitario da solo non può affrontare le sfide di salute che si trova davanti. La necessità di una definizione identitaria dei progetti WISPAL Grazie. Grazie per la visione!